E per tutti ragazzi video importantissimo Madonna hanno tolto tutti i follower a tutti quanti su tiktok Vai a vedere subito il tiktok immediatamente Mamma mia Devi andare subito Avrai zero follower ci scomento Ma tutti ragazzi Commenta se hai zero follower su tiktok E andiamo subito a protestare su tiktok Da me, dalla mia ragazza A tutti i miei amici A tutti i ragazzi Quelli più famosi che avranno anche 200.000 follower ragazzi Gente famosissima Hanno rimosso tutti tutti i follower ragazzi Andate a vedere subito su tiktok ragazzi Notizia veramente scioccante Ma proprio scioccante scioccante A me è comparsa una notifica ragazzi Guardando sull'app tiktok dove arrivano i mi piace e i follower Dove c'è scritto abbiamo rimosso dei tuoi mi piace non autentici ragazzi E praticamente in realtà mi hanno rimosso proprio i followers Non i mi piace tra parentesi Ok ragazzi Però la cosa assurda è che proprio tiktok pensa di essere autentico Però non è autentico tiktok Ma lasciamo stare questo particolare Perché io so che i miei amici li hanno fatti la loro madre Ma tiktok chi l'ha fatto? La mamma chia di tiktok Quindi ragazzi andiamo subito a protestare a tiktok E diciamo che cazzo stanno facendo Perché ce l'ho rimosso i follower E ragazzi se non ci rimettono i nostri followers Ragazzi togliamoci tutti Tutti da tiktok ragazzi Ci dobbiamo togliere da tiktok Perché fa veramente veramente schifo E fa un culo anche twitch ragazzi Perché anche twitch mi ha fatto lo stesso discorso ragazzi Quindi veramente Io mi tolgo sia da tiktok e sia da twitch Se non mi rimettono i miei followers ragazzi Video importantissimo